Detto onestamente, e su Roma non può parlare proprio nessuno, perché i 5 Stelle hanno preso questa scivolata deplorevolissima. Ma vogliamo ricordarci di mafia capitale e prima ancora di Alemanno? Qui gli unici che possono parlare sono quelli della Lega, ma giusto perché non sono mai stati in giunta. Allora, diamoci piano. Ma io vado pianissimo. E' un insuccesso politico. Hai ragione su questo, per carità. E secondo me devono ripensare il loro modello, perché evidentemente non riesce a impedire la corruzione. Su questo siamo d'accordo. Però di qui a dire che sono come gli altri, eccetto, diamoci un po' cari, che lezioni di morale su Roma non le può dare nessuno. Non sono come gli altri perché infarciscono il malaffare con una retorica moralistica, il che è assolutamente peggio, perché almeno io non ho sentito degli esponenti dell'aggiunta Alemanno fare la predica sulla questione morale. Invece noi in questi mesi siamo stati ammorbati da persone che giravano con le arance, che chiedevano le dimissioni appena arrivava un avviso di garanzia. E scopriamo che nel mentre facevano questo, contemporaneamente, stavano organizzando, se le tesi dell'accusa saranno provate, un sistema di corruttere addirittura più raffinato di quelli che era, perché doveva come dire, doveva essere 2.0, cioè doveva superare in qualche modo le cose che erano già emerse del vecchio sistema. E questo, guardate, non è un fatto banale. E io ho sempre criticato il modo manicheo con cui hanno posto le questioni, per cui noi siamo gli onesti e gli altri sono tutti isoni. Questo io l'ho sempre criticato. Anche l'atteggiamento non garantista, per cui un avviso di garanzia significa che sei coltevole. Ho sempre detto che è una cosa bestiale. E farebbero, nel quadro del ripensamento del loro modo di essere, farebbero bene ad abbandonare queste cose che poi giustamente provano queste reazioni. Perché uno dice, ma come, tu che gridavi onestà, onestà, ecco. Però è la base. Però, specchia, io volevo introdurre...